Imposta zona giorno a 18 gradi. Ok Daniel, ho impostato lo zona giorno a circa 18 gradi. Imposta la casa a 19 gradi. Bene, ho impostato entrambi i termostati a circa 19 gradi. Imposta la zona notte a 18 gradi. Bene, ho impostato lo zona notte a circa 18 gradi. Imposta la casa a 19 gradi. Ok Daniel, ho impostato entrambi i termostati a circa 19 gradi. Ok. 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 Ok.